Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e ben trovati in diretta per questa edizione di pranzo del nostro notiziario. In apertura la cronaca, la cronaca nera con un grave incidente stradale avvenuto eh nella notte a racchiuso di Attimis un motociclista ha perso la vita un altro è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Udine. A causare il sinistro molto probabilmente un animale selvatico un capriolo che ha attraversato la strada sul luogo dell'incidente in località Borgo Piccoli eh anche la carcassa dell'animale. La dinamica esatta dei fatti ancora da chiarire secondo una prima ricostruzione ad impattare contro l'animale sarebbe stato il centauro rimasto ferito un trentatreenne della bassa friulana per il motociclista deceduto un quarantatreenne residente in zona sarebbe invece stato fatale l'impatto con un segnale stradale sul posto per i rilievi dell'incidente i carabinieri della compagnia di eh Cividale. Abbiamo visto la notizia ancora in primo piano sul sito internet di Udinese TV. Adesso invece andiamo sul sito eh dell'Ansa e vediamo in primo piano la news riguardante il risultato del voto in Germania. Il partito socialdemocratico ha vinto le elezioni parlamentari segnando la fine dell'era Merkel con il venticinque virgola sette per cento dei voti leggermente davanti ai conservatori secondo un conteggio ufficiale provvisori annunciato questa mattina dalla commissione elettorale eh federale il campo conservatore ZDU ZSU ha ottenuto il ventiquattro virgola un per cento dei voti il peggiore risultato della sua storia mentre i verdi sono arrivati al terzo posto con quattordici virgola otto per cento seguiti dal partito liberale FDP con l'undici virgola cinque eh per cento una partita sul filo di eh lana e ci sono due sfidanti pronti a rivendicare lo eh scettro. Gli elettori hanno espresso la loro volontà in modo chiaro ha detto Olaf Scholz leader dell'SPD ehm una volontà espressa in modo chiaro hanno rafforzato spedeverdi e liberali e questi tre ha detto Scholz devono guidare il nuovo eh governo e per analizzare ancora il risultato di queste eh elezioni ci colleghiamo con la nostra troupe esterna con Francesca eh Santoro che eh si trova assieme al professor Andrea Zanni eh del dipartimento di studi umanistici dell'Università di Udine proprio per eh alcune considerazioni su questi eh risultati che segnano un po' eh la storia Francesca vi vedo pronta nel nostro monitor e allora voi la linea buongiorno Angela siamo a Palazzo Caeselli con noi Andrea Zannini direttore del dipartimento di studi umanistici dell'Università di Udine per parlare dell'esito delle elezioni in Germania secondo lei era prevedibile questo risultato? Ma mi sembra di sì gli exit poll anzi più che gli exit poll i sondaggi avevano dato eh le spede in forte rimonta eh quello che forse non si prevedeva in questi termini è la grande frammentazione eh la grande dispersione del voto tra numerosi partiti però sostanzialmente eh l'espede era andata era data più avanti rispetto alla CDU, CSU quindi da questo punto di vista si sono confermati i sondaggi. Sulla fine dell'era Merkel potrebbe avere inciso la gestione del covid in questi in quest'ultimo anno e mezzo? Ma i commentatori non danno grande importanza a questo tipo di di questione di di problema. Incide probabilmente la prospettiva rispetto alla ripresa e alla gestione della ripresa dal punto di vista finanziario anche nei riguardi dell'Europa per cui per esempio eh la la buona prestazione che hanno avuto i liberali che sono notoriamente i liberal democratici che sono notoriamente i più rigorosi dal punto di vista del bilancio eh può essere dovuta anche alle preoccupazioni dell'elettorato tedesco rispetto alla situazione complessiva finanziaria dell'Europa e questa è una cosa che ricade anche sull'Italia che come sappiamo ha beneficiato più di altri del recovery plan. Secondo lei cosa succederà a questo punto? Potrebbe esserci qualche cambio di rotta nell'atteggiamento della Germania nei confronti anche degli altri paesi europei? Ma innanzitutto bisogna vedere che tipo di coalizione di governo prenderà forma perché ci sono eh di fatto due alternative una guida SPD una guida CDU e in entrambi tra l'altro si prevede eh la partecipazione alla coalizione di governo sia di verdi che di liberal democratici quindi la situazione è molto complessa. Poi i tedeschi su queste cose sono molto precisi eh ricordo che all'inizio se non sbaglio la prima grosse coalizione ci misero sei mesi per fare il governo e scrissero nero su bianco qualsiasi cosa quindi questo è solo il primo passo di una lunga fase di transizione che forse era inevitabile visto i sedici anni di Angela Merkel. Grazie allora professor Zannini a te Angela. Grazie a Francesca Santorio anche al professor Zannini adesso andiamo eh a vedere queste immagini che ci mostrano un mosaico mosaico molto eh particolare dedicato proprio a Angela Merkel che sta per uscire dalla scena eh politica eh tedesca da anche Angela un mosaico fatto di semi e dedicato appunto proprio Angela Merkel lo ha realizzato l'artista eh Alkent Pozzengu un artista eh Kosovaru per la cancelliera eh tedesca eh uscente vediamo appunto il mosaico che sta prendendo forma con tanti semi semi di mais ma anche semi eh diversi con colore diversi o proprio per creare la bandiera eh tedesca e anche il volto di eh Angela Merkel un omaggio appunto alla eh cancelliera che sta prendendo forma e adesso eh sempre per quanto riguarda gli esteri andiamo a eh Creta dove eh questa mattina alle otto e diciassette ora italiana eh è stata registrata anche dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Vulcanologia dell'Italia una forte scossa di eh terremoto di magnitudo sei punto uno della scala Richter vediamo in queste immagini proprio le pareti eh di un edificio che tremano e vediamo eh alcune persone scendere in eh strada eh spaventate eh secondo le prime informazioni ci sarebbe anche una vittima a causa di eh questa scossa eh di eh terremoto. Rimaniamo in ambito internazionale parliamo di internet perché cala ancora la libertà di internet nel mondo la Cina è maglia nera e quanto emerge dal rapporto annuale del team tank Freedom House che ha valutato settanta paesi in base a ventun indicatori. Allora sentiamo cosa è emerso. Cala ancora per l'undicesimo anno consecutivo la libertà di internet nel mondo. Maglia nera alla Cina i peggioramenti maggiori nelle Myanmar ma diminuisce anche il punteggio degli Stati Uniti per il quinto anno consecutivo. L'Italia è nel complesso libera ad affermarlo e il rapporto annuale delle think tank Freedom House, l'organizzazione non governativa internazionale che conduce attività di ricerca e sensibilizzazione su democrazia, libertà politiche e diritti umani. Ha preso in esame settanta nazioni valutate su ventuno diversi indicatori come gli ostacoli all'accesso alla rete, limiti nei contenuti che è possibile pubblicare, la violazione dei diritti degli utenti. Il reporte in particolare evidenzia che nell'ultimo anno in 48 nazioni su 70 analizzate, pari all'88% degli utilizzatori globali, sono state predisposte nuove norme per le aziende tecnologiche in materia di contenuti, dati e concorrenza. Con poche eccezioni positive, spiega l'organizzazione, la spinta a regolamentare l'industria tecnologica che deriva in alcuni casi da problemi reali come le molestie online e le pratiche manipolative del mercato, viene sfruttata per soffocare la libertà di espressione e ottenere un maggiore accesso ai dati privati. Le vittime sono gli utenti. E c'è attesa per il parere che verrà espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico sulla possibilità di ampliare le capienze di cinema e teatri. In un'intervista rilasciata oggi al quotidiano il messaggero, uno dei membri del CTS, Fabio Ciciliano, ha preannunciato la linea del Comitato che porterebbe a un aumento della capienza di cinema e teatri verso il 75-80%. Il numero esatto è oggetto di definizione ma sì, ha sottolineato ciciliano l'orientamento è proprio quello di allargare i posti occupabili nelle sale. Parliamo di ambienti chiusi in cui però si sta seduti e con la mascherina senza pure parlare con gli altri spettatori. Sempre indossando la mascherina e sfruttando il Green Pass quindi si può fare. Vedremo quali saranno le decisioni definitive del CTS che poi dovranno appunto essere recepite dal governo. Intanto i dati sull'andamento dell'epidemia di covid confermano un rallentamento dei contagi e soprattutto una diminuzione dei ricoveri in ospedale. Vediamo i dati del Friuli e Venezia Giulia. Nella giornata di ieri 56 nuovi casi a fronte di 8.718 tamponi con un indice di positività dello 0,64%. In regione non ci sono stati decessi causati dal covid nelle ultime 24 ore e vediamo appunto in diminuzione il numero delle persone ricoverate in ospedale. 40, 5 in meno nei reparti ordinari, 9 stabili in terapia intensiva. 1046 le persone ancora in isolamento, 22 in meno. In tutto il paese ieri 3.099 nuovi casi di covid e 44 decessi. Circa 276.000 i tamponi effettuati con un tasso di positività dell'1,1%. I pazienti ricoverati in ospedale sono 483 in terapia intensiva, 2 in più, 3.435 nelle aree non critiche, 62 in meno nell'arco delle 24 ore. E vediamo anche i numeri degli attualmente positivi, 102.244, 330 in meno. Ancora andiamo avanti e andiamo avanti con la cronaca parlando di una serie di controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri del comando provinciale di Udine, controlli su tutto il territorio, su diversi fronti anche per quanto riguarda il rispetto delle normative anti-covid. Nel corso di questa attività sono stati impiegati circa 100 carabinieri delle sei compagnie che hanno identificato 400 persone e controllato oltre 230 veicoli. Due i conducenti risultati positivi all'etilometro e dieci le violazioni alla guida complessivamente accertate con il decurtamento di 14 punti sulle patenti. I controlli eseguiti in 20 esercizi pubblici non hanno fatto emergere violazioni alla normativa anti-covid. A Udine invece una persona è stata segnalata in qualità di assuntore di stupefacenti poiché è trovato in possesso di 3,3 grammi di marihuana, mentre un'altra è stata denunciata per danneggiamento e per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Sempre per quanto riguarda la cronaca la polizia di Udine ha invece arrestato per detenzione illecita finalizzata allo spaccio di cocaina un cittadino afgano. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato quando durante un servizio di controllo nella zona del parco Moretti verso le 12.30 un equipaggio della volante ha fermato un cittadino afgano che poco prima si era allontanato dall'aria verde in bicicletta cercando di eludere il controllo degli agenti. Lo straniero apparso subito insofferente e nervoso aveva nascosto in una tasca un sasso di cocaina di circa 10 grammi dal quale però una volta tagliato si sarebbero ricavate decine di dosi. L'uomo 28 anni era già stato arrestato per lo stesso reato durante la nota operazione della polizia denominata Magnolia conclusasi nella primavera del 2019 in Borgo Stazione. Allo stesso privo di qualsiasi fonte di reddito oltre alla cocaina sono state sequestrate anche 265 euro in banconote di tagli diversi e provento di precedenti eccessioni di stupefacenti. Adesso cambiamo argomento e parliamo di folklore perché ieri Pazian di Prato ha ospitato una festa dedicata proprio al folklore, una festa per i 55 anni di fondazione del gruppo folcloristico di Pazian di Prato e anche per i 35 anni della rassegna itinerante del folklore, un evento che dal 1986 riunisce a sé i gonfaloni di tutti i gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia. Una comunità è come un albero ha dichiarato ieri il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin presente alla cerimonia. Può cambiare le foglie dove queste sono le idee che mutano nel tempo ma se perde le radici muore. Andiamo a sentire adesso anche le parole del presidente del gruppo folcloristico di Pazian di Prato, Fausto Di Benedetto. Beh per noi è un momento importantissimo indubbiamente diciamo portiamo a compimento il 55esimo anno di fondazione del gruppo folcloristico Pazian di Prato. Siamo nati appunto in questo periodo nel 66 per opera di alcuni giovani che in quel tempo si è reso protagonisti di questa bellissima avventura che stanno tuttora continuando. Ne abbiamo ancora tre con noi, siamo felicissimi. Naturalmente nel tempo ci siamo rinnovati, abbiamo tanti ragazzi, tanti giovani e questo diciamo è il nostro biglietto per il futuro. Diciamo che oggi è una giornata particolare, vogliamo chiudere i nostri festeggiamenti insieme a tutti gli amici del folklore, del Friuli, per cui siamo alla 35esima edizione della rassegna itinerante del folklore che fin dal 1986 ci accompagna. Ci ritroviamo con tantissimi gruppi, praticamente la quasi totalità dei gruppi folcloristici delle Friuli Venezia Giulia che oggi ci fanno da corona e ci ritroviamo insieme per passare una giornata insieme nella speranza di poter ripartire nelle nostre attività che purtroppo sono state bloccate causa pandemia che tutti conosciamo insomma. Lei ha parlato di giovani quindi possiamo dire che il folklore in Friuli non muore? No, non muore e siamo convinti che non morirà perché come gruppi folcloristici stiamo facendo un grande lavoro di divulgazione delle nostre tradizioni anche verso i giovani nelle scuole. Naturalmente parlo per il mio gruppo ma sono a conoscenza che tanti altri gruppi fanno questa attività perché crediamo nella capacità formativa dei nostri gruppi e nella diciamo nella volontà nella volontà di imparare dei nostri bambini dei nostri ragazzi quindi è importante dare loro un segnale fargli capire da dove vengono quali sono le loro tradizioni e sicuramente avranno un futuro più roseo e naturalmente più avvincente anche potendo vivere e convivere con noi in amicizia e in felicità e conoscendo anche il mondo naturalmente perché noi oltre andare a rappresentare le nostre tradizioni in friuli in Italia e nel mondo riceviamo anche diversi gruppi da ogni anno da tutto il mondo e quindi portiamo anche il folclore e le tradizioni degli altri paesi nella nostra piccola patria. Siamo allo sport con l'Udinese che ieri ha perso in casa contro la Fiorentina per 1 a 0 a decidere la gara un rigore molto contestato e discusso in casa Udinese. Sentiamo. Se qualcosa può andare male allora lo farà e a giudicare da quanto visto la Dacia Arena sembra proprio che la legge di Murphy si stia avverando perché anche in questa occasione come contro la Roma l'Udinese esce dal campo con zero punti nonostante meritasse di più con l'unica differenza che con la Fiorentina e il K.O. lo decide un rigore quanto meno dubbio. Un episodio che capita all'alba del match e che lo indirizza il primo brivido è di Becao che colpisce di testa da corner ma al quindicesimo ecco l'evento che cambia la partita. Wallas tocca Bonaventura in area Gersini inizialmente lascia correre ma poi su richiamo del VAR torna sui suoi passi e decreta il penalty. Vlaovic dagli 11 metri non sbaglia e fa 1 a 0 realizzando il quarto gol del suo campionato. L'Udinese dopo la rete subita fa fatica a riorganizzare la manovra ma nemmeno la Fiorentina ha la forza per costruire azioni degne di nota e così si va al riposo sul punteggio di 1 a 0 per i viola. Nel secondo tempo Gotti cambia subito uomini e modulo con l'ingresso di Pussetto e Makengo al posto di Sopi Erslan e trasforma la squadra schierandola con un 4-2-3-1 e i risultati si vedono subito perché l'Udinese inizia a giocare e a creare in avvio dopo una grande azione di Pereira ci prova Beto col destro a giro che Drongoschi respinge a mano aperta. Poco dopo è il turno di Makengo da fuori ma l'estremo difensore viola è ancora bravo ad allungarsi e a dire di no al francese la Fiorentina nel secondo tempo non si vede praticamente mai se non con una botta da fuori del giovane Malè che finisce alta sopra la traversa e una conclusione di Saponara che Silvestri riesce a respingere. Nel finale l'Udinese prova il tutto per tutto dentro anche Samarzic, Molina e Udogi, Deulofeo a 5 dalla fine dopo una bella azione personale apre il piattone trovando ancora un attento Drongoschi sulla sua strada a negargli la gioia del gol è l'ultima chance di una partita che l'Udinese non meritava assolutamente di perdere ma che come è successo giovedì ha perso e adesso i capo consecutivi sono tre si deve ripartire però dalle prestazioni perché la squadra sa giocare e lo ha fatto vedere bisogna solo iniziare a giocare dal primo minuto adesso testa la Sampdoria. Testa la Sampdoria da domani oggi giornata di riposo per i bianconeri andiamo da Lorenzo Pausa alla Lasciarena per le ultime. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a te Angela e un saluto anche a tutti i nostri telespettatori. L'Udinese esce dal triplice impegno con Napoli, Roma e Fiorentina con zero punti. Sicuramente ci si aspettava un bottino maggiore soprattutto per quello che è stato l'esito delle ultime due partite perché se la sconfitta contro i partiti europei è stata insindaccabile quelle contro la Roma e contro la Fiorentina potevano effettivamente portare almeno ad un pareggio. Sono state decise entrambe da un singolo episodio anche se gli episodi in questione sono molto molto diversi. Un errore individuale, quello di Molina nel caso della sconfitta dell'Olimpico, come avete sentito nel servizio invece un rigore contestato nella partita di ieri contro la Viola. Resta però il fatto che l'Udinese incominci sempre la partita con una certa difficoltà ad uscire allo scoperto e solo una volta che viene colpita allora lì si risveglia e diventa pericolosa. Senza per altro però riuscire a raggiungere la via del gol e fatto sta che oltre a zero punti queste tre partite hanno portato anche zero gol fatti. Ieri c'è stato l'esperimento del cambio modulo nel secondo tempo che al di là del gol che non è arrivato ha portato però dei buoni frutti sotto il profilo del gioco perché è stato un 4-2-3-1 dalla matrice molto offensiva con Pereira, Pussetto e Deulofeu alle spalle di Beto. Gotti ha fatto capire come la squadra possa con elasticità adattarsi anche a un differente schema di gioco però solo in determinate partite o comunque nel corso della partita almeno fino a questo momento. Sta di fatto comunque che vedremo nei prossimi giorni se continueranno delle sperimentazioni sotto questo aspetto in una settimana che vedrà la preparazione incominciare domani, domani pomeriggio con la testa appunto alla Sampdoria alla sfida di Marassi del 3 ottobre dove sarà importante tornare a fare punti onde evitare di arrivare alla sosta con un fardello di quattro sconfitte consecutive. Prima di restituire la linea allo studio sentiamo le parole di uno dei protagonisti, forse il migliore in campo dei bianconeri nella gara di ieri ovvero Gerard Olofeu che analizza così la prestazione contro la Fiorentina. Sì ma la sensazione non basta, lo che non basta è fare buttare la prima parte come abbiamo buttato quasi in Roma e oggi non si può uscire in campo già perché siamo l'Udinese e possiamo mettere in problema a ogni squadra in questa classifica, lo abbiamo visto perché dopo nella seconda parte lo facciamo, sai? Quindi la prima parte non si può uscire così, troppa difensa, abbiamo corso tanto dietro la palla e alla fine riusciamo a giocare bene quando già iniziamo a perdere, quindi dobbiamo imparare questo, vedere qualcosa perché dobbiamo fare il 90 minuto così con la stessa idea di spingere, di pressionare, di andare l'attacco come abbiamo fatto la seconda parte. La tua ormai sta diventando una presenza fissa nel novero dei titolari, oggi c'è stato un esordio dal primo minuto nel tuo settore che è quello di Beto, ti chiedo allora come ti sei trovato anche a giocare assieme a lui? Bene, bene, è un differente tipo di centro avanti che naccio, sono diversi e io mi sento bene perché anche in altre squadre ho giocato con un centro avanti un po' più grande, niente, aiutare ognuno alla squadra, oggi non l'abbiamo potuto fare ma alla prossima, alla prossima. Ed Udinese torneremo a parlare ancora ampiamente questa sera nel corso del consueto appuntamento del lunedì con Udinese Tonight, alle 15 invece l'appuntamento con pomeriggio calcio. L'informazione ritorna in diretta come ogni giorno alle 16. Ci fermiamo qui per il momento, grazie e buon pomeriggio a tutti.